buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per il segno del leone valida sia per coppie che per single mamma mia oggi gli angeli sul leone sono un po agitati gli angeli hanno non so cosa hanno da dire esattamente lo scopriremo alla fine di questo video però sono un po agitati è come se avessero fretta di mostrare le loro la loro opinione ad ogni modo ragazzi se volete una sessione privata con me oppure un pacchetto che comprenda coaching e analisi karmica magari se volete vedere appunto le vostre vite passate oppure volete fare una sessione che vi serva a livello di crescita personale ecco date un'occhiata ai pacchetti e potete prenotare o dal sito internet direttamente oppure se preferite potete inviare una email e la mia assistente vi spiegherà tutto o comunque farà lei al posto vostro invece per diventare i miei studenti vi invito a mandare un messaggio whatsapp al 338 81 91 267 senza impegno vi spiegheremo quali sono le opzioni di rateizzazione a vostra disposizione o le scontistiche per chi si iscrive a più di un corso ma comincia ecco ok prendiamo questa e iniziamo e vediamo per il leone che cosa sta accadendo questo mese bella carta anzi belle carte tutte complimenti ragazzi bel mese perché partiamo con una meravigliosa regina di denari equilibrio stabilità volersi bene affetto ecco tutto quello che serve per creare delle basi solide e durature per una relazione per una qualun per un qualunque tipo di rapporto che durerà nel tempo la regina di denari è una figura completa io la definisco una figura completa perché è vero che il suo elemento principale è l'elemento terra il denaro e quindi la stabilità la concretezza il l'essere presente per gli altri per se stessa per i per il partner per la famiglia c'è molta forza in questa regina perché i denari parlano appunto di stabilità equilibrio all'interno della coppia o fra voi e quest'altra persona con cui che state frequentando in questo momento con cui state flirtando o a cui siete interessati insomma che è interessata a voi magari fatto sta che appunto la regina di denari sta lì e ci sta bene e lo fa anche con il cuore non le manca davvero nulla perché è anche in grado di analizzare le situazioni dal punto di vista più sentimentale ed emotivo è molto ricettiva è molto aperta all'ascolto di sé all'ascolto degli altri bella carta ripeto bellissima carta sia per chi è in coppia perché per le coppie parla di una stabilità che promette bene anche nel futuro nella quale due persone stanno proprio bene insieme o per chi invece single questa è la carta che parla di un'amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più un rapporto che già è solido anche senza essere una relazione di tipo sentimentale potrebbe diventarlo certo potrebbe nascere una relazione certo oppure potrebbe rimanere un'amicizia per qualcuno di voi sì fatto sta che le basi comunque ci sono e sono anche delle basi ottime perché con una regina di denari al centro e come energia generale davvero sembra che non manchi praticamente nulla alla stesa andiamo però a vedere nelle due singole colonne che cosa accade perché in una colonna ritroverete o potrete ritrovare voi stessi nell'altra il vostro partner quale colonna è la vostra lo capirete man mano che leggerò chi si trova qui a sinistra si sente come un asso di coppe ciò che prova è la forza desidera l'otto di denari si comporta come un asso di denari e ciò che non dice il cinque di bastoni dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come un re di coppe desidera la giustizia no prova la giustizia desidera un cinque di coppe si comporta come la stella e ciò che non dice il quattro di bastoni quindi partiamo da chi è in coppia bellissimo mese tanto amore tanti sentimenti e tanti momenti meravigliosi da passare insieme perché quando abbiamo da un lato un asso di coppe e dall'altro lato un re di coppe cosa può mancare sono due coppe bellissime l'asso di coppe ha lo stesso valore del re di coppe in un certo senso e qui mi riferisco soprattutto i miei studenti di secondo livello che questo genere di cose dovrebbero cominciare a comprenderle sempre più in automatico un re di coppe offre una coppa la tiene in mano proiettata verso di noi se noi guardiamo questo re di coppe in particolare di questo mazzo reader wise noi vediamo come il re di coppe si sporgia in avanti non si alza dal trono perché è un re e sta comodo e non ha bisogno di alzarsi dal trono per dimostrare il suo amore il bello di essere re è questo che tu per dimostrare quello che vali non hai bisogno di farlo vedere si sente è una questione energetica voi riconoscete un re in un determinato elemento semplicemente guardandolo osservando i micromovimenti e come andare e come entrare per esempio negli uffici di una mega multinazionale e entrare nell'ufficio del direttore generale ma è chiaro che guardando il direttore generale seduto sulla sua scrivania dietro la sua scrivania sentite quell'aura di potere di forza e di sicurezza in se stesso che manifesta quella persona allo stesso modo un re di coppe è colui che manifesta e trasmette energeticamente la sua capacità di amare o il suo amore quindi non ha bisogno di alzarsi dal trono per andare a fare dire creare o chissà che come le altre carte lui sta lì si sporge un po' davanti offre la propria coppa e voilà ed ecco che abbiamo tutto quello che serve quindi con un asso di coppe con un re di coppe abbiamo due persone innamoratissime queste sono coppie che stanno vivendo momenti veramente belli fatti di stabilità ma anche di sentimento vediamo adesso cos'altro c'è questa persona prova la carta della forza e questa invece prova la giustizia ecco che gli screzi e le incomprensioni vengono gestite molto bene perché perché questa persona vuole l'equilibrio vuole che le cose vengano fatte nel modo giusto vuole che vengano fatte nel modo giusto quest'altra persona invece siccome anche quest'altra persona vorrebbe che le cose venissero fatte nel modo giusto ma a modo suo perché ognuno ha la sua idea di giustizia ecco che questa persona invece sta aspettando il momento giusto per dire qual è la sua idea di giustizia ma sta aspettando sta attendendo il momento perché perché ha paura di creare litigi proprio perché questa persona un po la testa dura è un po convinta di sé e allora ecco che questo siccome questa crede di fare le cose giuste quando le fa a modo suo l'altra per evitare problemi e per evitare litigi o cose del genere un po si trattiene si trattiene e aspetta magari il momento in cui un'eventuale discussione potrebbe non essere poi così grave cosa desiderano queste due persone un otto di denari e un cinque di coppe la sensazione che ho a livello proprio di coppie è che il leone sta superando ciò che è accaduto in passato cioè sta superando dei momenti difficili che ci sono stati che hanno portato la coppia a vivere delle crisi e invece adesso davvero stiamo ritrovando l'equilibrio davvero stiamo guarendo la carta della stella parla di guarigione parla proprio di un ritorno ad essere noi stessi un ritorno alla nostra originalità a ciò che davvero ci rende noi stessi in coppia in questo caso e che quindi ci permette di stare in sintonia in equilibrio col partner due carte meravigliose l'asso di denari e la stella perché in questa posizione cioè che cosa facciamo come ci comportiamo alla grande ci comportiamo io sono qui per te dice questa carta io sono qui per te per costruire un futuro meraviglioso e duraturo che nessuno potrà toccare o scalfire e l'altra persona invece dice io sono qui per guarire per capire per ritrovare un un nuovo me che può stare in coppia con te sono qui perché grazie a te io capisco quali sono i miei limiti li riconosco e posso superarli se tu stai con me mi assecondi e mi aiuti quindi sono davvero delle carte meravigliose mi stanno davvero stupendo perché era però da un po che non vedevo un momento così vicino fra i due partner nella stesa del leone cosa però questa persona desidera è un 5 di coppe quindi probabilmente questa è una persona che tende a che tende anche a ad accontentarsi tra virgolette vi spiego in che senso accontentarsi ognuno di noi ha la sua idea di coppia ognuno nasce con la convinzione che l'essere in coppia dovrebbe essere in un certo modo la mia idea è diversa dalla vostra questo è ovvio ciascuno ha la sua personale idea la mia idea di coppia è un'idea di coppia molto molto libera rispetto per esempio alla cultura nella quale io sono cresciuta origini siciliane quando io ero ragazzina avevo il primo fidanzatino era se ne sentivano davvero di belle poi in un piccolo paesino immaginatevi piccolo paese al centro della sicilia dove la mentalità era molto ma molto chiusa e tutti ci conoscevamo perché il paese era veramente piccolino quindi stiamo proprio parlando di un modo di fare di questo tipo ok se tu sei la mia ragazza tu non puoi fare questo non puoi fare questo non puoi fare questo non puoi fare quello ecco questo era questa era l'idea queste sono state diciamo le mie prime difficoltà di coppia non potevo salire in macchina con i miei amici maschi perché salire in macchina con i miei amici maschi a fare un giro per le campagne attorno al paese significava che la gente avrebbe parlato male e avrebbe pensato male e io stavo lì che dicevo al mio ex ragazzo di quell'epoca scusami ma se i miei amici sono anche amici tuoi se tu sei benissimo che io a questo tuo amico in particolare a questo nostro amico in particolare io non gli piacerei mai nemmeno quindi proprio il problema non si pone perché non devo fare un giro in macchina con questo nostro amico perché perché la gente parla perché la gente pensa perché a me da fastidio ora vi ho fatto giusto un esempio ma non avete idea dell'elenco di cose che non potevo fare quindi diciamo che è durata poco questa condizione ma la verità la realtà dei piccoli paesini del sud italia era questa quindi ecco che io ho sviluppato invece una idea mia di relazione molto più aperta molto più libera più simile a quelle che invece si si vedono normalmente nel nei paesi del nord europa quindi una relazione nella quale io ti garantisco la mia fedeltà perché per me non ha senso andare con un altro finché sto con te cioè se no sto con un altro non sto con te non è che ne voglio due o tre contemporaneamente uno mi basta e mi avanza quindi ecco sì la fedeltà è garantita però allo stesso tempo io se devo uscire esco se devo andare da qualche parte vado se devo andare in vacanza per i cazzi miei vado in vacanza cioè non mi faccio tutti questi problemi e ecco la libertà è importante la libertà è fondamentale e la fiducia allo stesso tempo è fondamentale quindi quindi ecco perché sono arrivata a parlare di questo perché questa è una persona che mi dà la sensazione di essere cresciuta un po come ero cresciuta io con delle convinzioni con le convinzioni che per stare in coppia bisogna fare le cose in un certo modo e anche se questo modo non ci fa piacere e non ci fa stare bene perché ci limita limita la nostra libertà individuale però vabbè è così che funziona è andata così per secoli decenni deve essere così cioè se il genere umano si è evoluto così deve essere così e ma no ma no ci stiamo appunto evolvendo e comunque non è detto che se tutti fanno una cosa sbagliata la devi fare anche tu la mentalità di questa persona che vedo qui ora la mentalità di questa persona mi sembra un po una mentalità da chi si accontenta di certe cose e non si preoccupa di trasformarle più di tanto perché pensa ma se è normale così è normale così mi devo accontentare come se io da ragazzina mi fossi accontentata di dire e vabbè siccome dalle mie parti è normale così che non devo salire in macchina con l'amico e allora non ci salgo no io non ero no io non ero il tipo che reagiva in questo modo io ero il tipo che ragionava e diceva ma se non c'è nulla di male perché non devo farlo piuttosto guarda litigheremo da oggi alla fine dei tempi ma io ho i miei diritti umani io ho la mia libertà individuale e la proteggo anche a costo di litigare con te fino a mollarci cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo maio iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com quindi mentre questa persona dice accontentiamoci di quello che c'è miglioriamo va bene migliorare però senza pretendere troppo cerchiamo comunque di fare le cose come si deve questa invece è una persona che dice guarda io apprezzo tantissimo il miglioramento io sono felice di quello che sta accadendo però c'è ancora qualcosa da risolvere quindi siccome mi rendo conto che non posso mettere tutto sul piatto in una volta perché creerei troppo casino troppo magari insomma se passerei per una che pretende troppo allora io per adesso un paio di cosine me le tengo per me e non dico che cosa aspetto ancora che tu faccia però prima o poi lo faccio però prima o poi te lo dico prima o poi ne parliamo ecco questo è un po l'atteggiamento ora ragazzi al di là di questo piccolo dettaglio va benissimo va davvero benissimo semmai una cosa che io vi chiedo di commentare in che cosa voi avete la sensazione che il vostro partner tenda ad accontentarsi e a farsi andare bene delle cose quando invece secondo voi no non bisogna farsene andare bene delle cose bisogna comunque insistere migliorarsi ogni giorno e cambiare anche i minimi dettagli o al contrario potreste essere voi quelli che vogliono quelli che si vogliono accontentare che dicono vabbè dai intanto facciamo le cose per bene poi i dettagli li vediamo forse dopo più avanti magari chissà ecco io più che altro vorrei capire in che modo c'è questa dinamica e perché c'è questa tendenza da parte di uno dei due a a scegliere l'accontentarsi di accontentarsi per il resto però io vedo davvero che questa è una coppia che sta guarendo da cose vecchie e che entrambi i partner si stanno impegnando per creare quella condizione di benessere e ci stanno riuscendo alla grande l'amore c'è e quando l'amore c'è e la volontà c'è e l'intelligenza c'è nessuno può distruggere una coppia del genere siete davvero invincibili solo voi potete definire se la vostra coppia se la vostra relazione funzionerà o no e dipende da quanto voi volete che funzioni una cosa però importante da capire che non si decide da soli si decide in due quindi se io voglio che funzioni ma tu no non funziona non posso fare io tutto il lavoro però per i singoli invece come vi dicevo questo è un mese nel quale si possono nascere delle nuove coppie si possono nascere delle amicizie che diventeranno delle coppie più avanti si possono nascere dei flirt che partono con una un'energia talmente bella fin dall'inizio che cavolo che cosa si può desiderare di più di questo per cominciare bene un qualcosa l'amicizia alla base di tutto questo è chiaro la complicità è alla base di tutto e il sapere che l'altro c'è e che l'altro ci tiene davvero a noi e non è solamente una presa in giro non è uno scherzo qui non stiamo assolutamente non stiamo avendo a che fare con qualcuno che ci prende in giro qui sono due persone innamorate l'una dell'altra che sanno di essere innamorate che sanno cosa vogliono e che devono semplicemente devono semplicemente raggiungere un equilibrio in questa fusione in questo incontro quindi nasceranno delle coppie sì e nasceranno anche con la quinta marcia innescata quindi molto bene quelli che invece non entreranno a far parte non entreranno in relazione subito comunque è una cosa che promette molto bene perché l'interesse è incredibilmente reciproco quindi sicuramente roba buona tanta roba l'unica cosa per quanto riguarda i single è appunto che uno dei due si sta trattenendo uno dei due si sta trattenendo sempre su questo qualcosa che non va che però non viene detto non viene detto perché si cerca sempre di evitare i conflitti ed evitare le discussioni ma in realtà non credo che questo dire qualcosa porterebbe a chissà quali problemi perché dall'altra parte c'è una persona talmente tanto proiettata verso il fare le cose per bene in modo giusto che si può parlare io vi consiglio davvero ragazzi di farlo e soprattutto se state iniziando una relazione questo mese cercate di farlo con il piede giusto sotto tutti i punti di vista quindi non tralasciando i vostri desideri i vostri pensieri personali abbiate il coraggio di dire le cose abbiate il coraggio di discuterne tanto l'energia è davvero talmente tanto bella che se trovate le parole giuste per dirlo potete discutere di qualunque cosa potete evitare liti non è detto che dobbiate litigare assolutamente questa è una persona che tende alla giustizia tende anche se necessario è capace se necessario di chiedere scusa è qualcuno che pretende delle scuse quando è importante che ci siano quindi tende davvero molto alla giustizia questa persona e soprattutto tende a sta tendendo a curare quella parte di sé che fino ad oggi gli ha rovinato le relazioni perché continuare a tenere in vita una parte di noi che ci rovina la vita che ci distrugge ci fa autosabotaggio sulle cose più belle più importanti che abbiamo questa persona ci sta molto lavorando ed è bellissimo il lavoro che sta facendo perché il suo segreto è che vuole la stabilità allora adesso però vi devo dare anche un'altra interpretazione vi devo dare un'altra interpretazione ma vale solo per qualcuno di voi ragazzi solo per qualcuno di voi qualcuno di voi non può entrare in una relazione ufficiale perché c'è un'altra persona o uno dei due è sposato o uno dei due è fidanzatissimo o uno dei due comunque c'ha i cavoli suoi e quindi ecco che non può nascere una relazione ufficiale e la cosa fastidiosa è che l'amore è talmente tanto forte fra voi che è il fatto di non poter realizzare questo sogno e questo desiderio pesa però mentre chi è già in coppia ed è già impegnato sa che si deve accontentare di questo e sa che non può avere di più perché purtroppo questa è la verità l'altro invece sta aspettando sta aspettando che questa condizione cambi che questa persona si liberi vediamo però adesso che cosa ci dicono le nostre cartine su l'incrocio energetico fra il nostro segno del leone e i 12 segni dello zodiaco quindi prendiamo le nostre cartine e cominciamo a vedere che cosa realmente sta accadendo fra noi e tutto il resto del mondo questa parte è stata creata per i singoli in particolare però io consiglio anche chi in coppia di guardare perché esce sempre qualcosa di interessante quando meno ve lo aspettate esce sempre qualcosa di interessante e intanto vi ricordo che se volete diventare miei studenti che sia di tarocchi o di magia d'amore telepsichia o di psicologia karmica ed energetica potete inviare un messaggio whatsapp per chiedere informazioni insomma per vedere un po le scontistiche che avete a disposizione se vi scrivete a più di un corso o il le possibilità di rateizzazione eccetera eccetera ecco in questo caso potete inviare un whatsapp al 338 8191267 senza nessun intagno vi spiegheremo che opzioni voi avete ora iniziamo vediamo un po che cosa accade fra il leone e l'ariete ecco allora perlomeno con l'ariete state tranquilli sembra che non abbiate nessun motivo di cui preoccuparvi il toro vuole che voi vi facciate vivo chissà perché me lo commentate magari il gemelli con il gemelli questo potrebbe essere l'occasione per un nuovo inizio che tra l'altro inizia anche in modo abbastanza carino con il cancro cercate di non complicare le cose e di seguire una via semplice leone con leone ecco se siete leone con leone qualcosa che non vi aspettate sta per accadere poi magari mi direte vergine no beh con la vergine questa cosa sembra non portarvi da nessuna parte per il momento bilancia qualcuno sta cercando di mettervi contro o di farvi allontanare chi perché scorpione lo scorpione non vuole farsi coinvolgere emotivamente da questa storia il sagittario il suo desiderio che fra voi funzioni quindi con il sagittario via libera se anche voi avete lo stesso desiderio il capricorno invece sembra che vi stia ignorando o voi lo state ignorando insomma capricorno è pronto a chiudere e a passare oltre acquario la situazione è finita ma ma questa persona sta ancora pensando a voi a quello che avrebbe potuto accadere fra di voi e infine il pesci sta per dichiararsi quindi tenetevi pronti all'arrivo dei pesci adesso vediamo invece l'ultima nostra carta di oggi vediamo esattamente gli angeli che cosa hanno da dirci o da suggerire o da aggiungere alle nostre energie è uscita la carta del matrimonio ragazzi o siete già sposati con questa persona oppure ci sono buone probabilità che questa persona diventi il vostro partner ora questa non è una carta da prendere alla lettera però vi prego quindi non è che se poi con questa persona non vi sposate dite avevi detto che ci saremmo sposati invece non è vero non funziona così questa è una carta che parla di matrimonio perché rappresenta il legame importante il legame forte potente il legame che può diventare un matrimonio certo perché parla già di un matrimonio animico un matrimonio fra anime un legame talmente forte tra due anime che che potrebbe anche diventare un legame altrettanto forte sul piano fisico e materiale ma non è detto che accada ciò che però è detto che ciò che però è molto probabile che accada è che fra voi e questa persona ci sia un tipo di relazione che vi darà un senso di stabilità e che vi darà un senso di equilibrio sentirete accanto a questa persona o già lo sentite di avere proprio il terreno sotto i piedi e di poter camminare sicuri andare avanti insieme non si sa per quanto ma sicuramente potete camminare insieme e potete affidarvi l'uno all'altro i sentimenti sono assolutamente sinceri e reciproci non vedo bandiere rosse particolarmente pericolose o comunque le cattive intenzioni da parte di nessuno quindi se risuonate con questa stesa io vi dico potete davvero stare tranquilli e soprattutto vivete questa storia con pienezza non non abbiate paura per il resto io vi invito a inviare un messaggio whatsapp a andare sul sito internet a inviare un email e ci vediamo domani